Vueling, compagnia aerea di nuova generazione, continua il suo piano di espansione internazionale e punta sull'aeroporto di Pisa. Il collegamento con l'aeroporto El Prat di Barcellona diventerà operativo per quattro volte a settimana per questa stagione invernale, raddoppiando la frequenza della stagione scorsa e per la stagione estiva 2012 passerà addirittura cinque voli settimanali. Grazie ai voli in connessione sarà poi possibile raggiungere comodamente altre 24 destinazioni che fanno parte del network internazionale della compagnia. Offriamo una serie di servizi, tipo i voli in connessione attraverso l'Avo di Barcellona, che significa che i passeggeri da Pisa possono arrivare in Andalusia, alle Baleare, alle Canarie, partendo da Pisa, con due carte d'imbarco e il bagaglio del 30 a destinazione. Per l'aeroporto di Pisa si tratta di un altro successo in un anno che ha visto crescere il numero dei passeggeri con percentuali a due cifre e che fa ben sperare per il 2012 che si annuncia anno difficile. Siamo molto proiettati sul 2012 per ovvi motivi, quindi segnali di vettori che nonostante la crisi vogliono continuare a investire e a svilupparsi, fra l'altro con una formula molto originale, prezzi ragionevoli e servizio praticamente come quello di una compagnia tradizionale, aerei nuovissimi, e aeroporto di Barcellona principale e il Prat, quindi ci fa solo piacere e speriamo di farne tanti incontri così di qui alla prossima primavera perché vorrebbe dire avere un programma di voli in crescita anche per il 2012.